Vuoi smetterla di parlare della macchina? Ehi, un'altra cosa, come sapevi dove abitavo? Diciamo che siamo parenti, Piff. Perciò ho qui un regalino per te. Qualcosa che ti farà diventare ricco. Vuoi diventare ricco, vero? Oh, sì, certo, giusto, ricco, come no? Mi farai diventare ricco! Vedi questo libro? Questo libro dice il futuro. I risultati dei principali avvenimenti sportivi fino alla fine del secolo. Football, baseball, corse di cavalli, box. Le informazioni racchiuse qui valgono milioni. E io le do a... Beh, sei molto gentile, grazie, molte grazie. Ora, perché non prendi armi e ritagli e smammi? Armi e bagagli, brutto idiota! Che significa armi e ritagli? Va bene, d'accordo, ma vattene adesso e portati via quel libro! Ma non capisci, puoi fare una fortuna con questo libro. Ti faccio vedere. Scommetto un milione di dollari che la Ucla vince 19 a 17. La Ucla vince 19 a 17 e la folla qui allo stadio sta in pazzetta. Decker ha portato... Va bene, dai, qual è il trucco? Come sapevi qual era il risultato? Te l'ho detto, è scritto nel libro. Devi solo scommettere sul vincitore e non perderai mai.